Giovanni Porcu, Silattari, benvenuto al Porto Cervo Wine Festival, una nota su questa prima edizione. Grazie, è eccezionale. Finalmente una piccola azienda come la nostra ha avuto una grande vetrina che la Starwood gli ha concesso. Per noi è importantissimo avere un'occasione così perché qui abbiamo incontrato tutti quelli che conoscevano i nostri prodotti solamente per averli degustati. Finalmente hanno potuto vedere le nostre persone, gli abbiamo potuto raccontare il vino. Parliamo allora dell'azienda, dove vi trovate? Noi ci troviamo a Bosa, noi produciamo malvasia di Bosa, dallo sfumante a quella ferma a quella a bassa gradazione alcolica. Qual è la caratteristica peculiare a livello organolettico della malvasia di Bosa? Sicuramente i profumi. I profumi che sono... si sente il mare, si sente la terra, si sentono le persone perché è un vino che non bisogna solamente berlo, bisogna raccontarlo. Quindi in queste occasioni c'è la possibilità di far degustare il vino e anche di raccontarlo. Qual è il vostro modo di interpretare un vitigno storico come questo? E qui è lungo perché noi abbiamo cercato di prendere dalla tradizione della malvasia di Bosa solamente le note migliori. Le abbiamo integrato con l'innovazione, con l'aiuto di un grande enologo che è Piero Cella, che ci segue. Abbiamo creato dei prodotti tradizionali ma innovativi.